I frequenti viaggi in Germania, trovare un amico, un carattere sociopatico e violento, nonché la familiarità con le armi, che ha permesso ad Alejandro Augusto Stefan Meran di poter sparare con destrezza, addirittura con due pistole, sono alcuni degli elementi d'indagine su cui si sta concentrando la magistratura triestina a riguardo le vicende di venerdì che ha scosso Trieste e l'Italia intera. I video divulgati e le modalità che sono state ricostruite portano a considerare numerosi dettagli come spunti per capire di più su chi sia davvero Alejandro Meran. Nella concitata dinamica ci sono poi altri aspetti emersi in queste ore. Dopo aver sparato gli agenti, il fratello del killer Carlise, uscito dal nascondiglio e visti i corpi degli agenti a terra, terrorizzato ha telefonato alla compagna per riferirle che il fratello aveva sparato a dei poliziotti. Quindi gli altri momenti concitati, nell'atrio della questura con Alejandro Meran che punta e spara verso l'agente scelto Morleo, per poi uscire e ingaggiare un conflitto a fuoco con altri poliziotti, terminato col colpo del sostituto commissario Detoni, il quale, dopo aver udito uno scarrellamento dell'omicida, pronto dunque a fare nuovamente fuoco, ha neutralizzato con un colpo non letale il dominicano, il quale poi ha chiesto di smettere di sparare in quanto a terra è disarmato. L'altro elemento che è emerso è il numero di colpi che sono stati sparati e l'indirizzo dei poliziotti 4 e 5. Altro particolare arrivato agli occhi di chi ha visto il video divulgato dalla questura è il vedere Alejandro Meran scalzo. L'uomo è arrivato in questura in infradito, salvo poi perdere le calzature durante le sparatorie. Un soggetto dunque pericoloso per cui il magistrato non ha avuto dubbi nel disporre la custodia in carcere per l'alto pericolo di fuga, avendolo Stefan Meran contatti e appoggi in Germania, in particolare da un amico, Mirko, a cui ha fatto più volte visita.